Ciao ciao a tutti, essi è un nuovo canale, sono felicissima e adesso vi spiego tutto. Allora, tanti di voi mi avete chiesto di fare molti video in inglese e quindi ho deciso di aprire un nuovo canale solo in inglese. In realtà non è che sto aprendo un nuovo canale, ma sto solo trasformando il mio vecchio canale Bambola e Reborn Italia in un canale in inglese. Perché il mio canale Bambola e Reborn Italia l'ho aperto nell'estate tra la quarta e la quinta elementare, quindi ovviamente ero ancora una bambina. Nel corso degli anni sono cresciuta e ho iniziato a non giocare più con le bambole, non mi veniva più l'ispirazione per che video fare. E quindi ho deciso di cambiare il canale. E adesso vi faccio vedere un po' il trailer del mio nuovo canale. No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no I ain't never gonna stop No, no No, no Spera che vi sia piaciuto il trailer Ricordatevi di iscrivervi anche al mio nuovo canale in inglese E se volete scrivete giù nei commenti che video potrei fare sul mio nuovo canale Che video fare in inglese E comunque il mio nuovo canale si chiama Sofia Catherine E ricordatevi di iscrivervi a questo canale se volete anche a quello nuovo Ricordatevi di mettere tantissimi like a questo video E ci vediamo nel prossimo video Alla prossima ragazzi!